eccoci tornati! più strafatti di prima è la F2 è la F2 come faccia passare la abbiamo qualcosa di più che cacchio? mi ha spinto sono terrorizzato per esempio ecco cosa serviva vede cosa serviva iiiiiiiii io non sto piacendo ascia aiia ascia ah c'è il fucile che cacchio è? lo scimpanzato lo scimpanzato ma fa il culo cassa cavoli fa il culo fa il culo fa il culo forca ma fa il culo perche tutto il culo ma fa il culo ma fa il culo ma fa il culo ma fa il culo 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 dammelo 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 nonnonnonnnnn n kami già qua siete morto è un disco da sega ce ne vedo una te carica sento caricamento caricato ci siamo a secco proprio ci ricordi ti ricordo che siamo di qua abbiamo visto il red e tutti qua e questa porta era chiusa non si poteva aprire tu ricordi? ehi andiamolo vedi tu ricordi cosa c'è qua? c'è qualcosa che si muove nelle scatole scaro faggino cos'è? abbiamo gli ultimi colpi cos'è questa roba? non lo so apriamo quella porta ecco ma l'audio è ancora basso oh lo sento io basso aspetta ti è preso al volo che mina eccezionale eh si mina eccezionale però cavolo ma siamo a secco siamo a secco qua ci fanno secchi a pugni guarda lì figlio di una grandissima non il culo no 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 l'ostra no faccio un po' solo ma dove siamo ferite? aspetta dove è la chiesa? questa è la chiesa? no E' la chiesa questa? Sì, credo di sé Facciamo passare qua Siamo nei guai Non ne posso andare questo qua Guarda se mi lancio poi Forse te E' la mori ammazzata Va a cagare Non ti cago Non ti cago mica Non ti cago mica La prete è stronza Che vuoi di te? Ok Chiudiamo qua, siamo al riparo Ci vediamo al prossimo video Da me, il grande e superpotente Oz Di Mr. G Ciao 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 Grazie a tutti